Patek Philippe Golden Ellipse, storia, design e modelli iconici dal 1968. Il Patek Philippe Ellipse nasce nel 1968, stravolgendo quelli che erano i canoni dell'orologio da polso. Erano gli anni dove la forma delle casse era prettamente rotonda, quella di forma ellittica la si stava apprezzando pian piano e come un fulmine a ciel sereno. Ecco che venne presentato a Basilea nel 1968 il Patek Philippe con una delle forme più iconiche del mondo, l'ellipse. Il suo design si ispira al principio della sezione aurea scoperto dagli antichi matematici. Questa, divina proporzione, espressa con la formula, 1 su 1,6181 è alla base dei più grandi capolavori artistici e architettonici della storia, dove anche diversi filosofi e artisti sono arrivati a cogliervi col tempo un ideale di bellezza e armonia spingendosi a ricercarlo e, in alcuni casi, a ricrearlo nell'ambiente antropico quale canone di bellezza. Il Patek Philippe Ellipse nasce in soli materiali preziosi, oro giallo, oro bianco e platino. La prima referenza del Patek Philippe Ellipse del 1968 è la 3548-1. L'orologio con cassa di 27x32mm era dotato di un bracciale a maglie chicco di riso in oro giallo 18K, come la cassa, con un quadrante blu, solo tempo, indici e gioco sfere in oro. Nel 1972 viene introdotta la referenza 4226J, e la modifica, anche se impercettibile, è di un millimetro in più nel diametro della cassa, si arriva a 28x33mm. Per il resto il Golden Ellipse rimane invariato, il materiale della cassa è l'oro giallo 18K, il quadrante blu con finitura soleil, gli indici e il gioco sfere a contrasto in oro. La novità più significativa è che nel 1972 viene introdotto il cinturino in allegatore blu scuro che riprende i toni del quadrante, con la fibbia marcata sempre in oro 18K. L'ultima referenza che andremo a trattare è la REF. 5738P, immessa nel mercato da Patek Philippe recentemente nel 2008, presenta un classico ritorno al passato, e a quelli che furono gli anni 60-70, e li celebra con l'ellipse prodotto solo nel materiale più prezioso. Cassa in platino, il quadrante richiama il blu mare, iconico ormai in questo modello, le misure della cassa sono 34.5x39.5 mm, più grandi, così come impone oggi il mercato. Il calibro è a carica automatica. Nel 2018 l'ellisse dorato ha compiuto 50 anni, e per celebrare il suo anniversario sono stati fatti dei modelli celebrativi come la REF. 5738-50P, 001. Il quadrante dell'orologio si distingue per il fondo in smalto nero granfè, impreziosito da volute incise a mano nella placca in oro 18K. Questa decorazione raffinata si inserisce perfettamente nella forma originale e audace dell'ellisse d'oro. La corona esibisce un cabochon in onice nero incastonato. Grazie a tutti.